Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione, gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla terza puntata di Acome Angels, domenica i Ranocchi Angels affronteranno i Legio 13 Roma, partita fondamentale per l'ingresso e la griglia dei playoff 2013. Seguiteci! Siamo qui con il quarterback, il regista dei Ranocchi Angels, Aguzzi. Con lui voglio fare due passi indietro, le due partite vittoriose dei Ranocchi Angels, disputate la prima a Imola, la seconda contro i Doves di Bologna. Fammi capire come hai visto la squadra in queste due partite vittoriose e come arriviamo domenica alla partita decisiva. Buonasera, con tutto il rispetto per tutti gli avversari, devo dire che la partita di Imola, per quanto eravamo rimaneggiati, è andata molto molto bene, ci è venuto quasi tutto, anche al netto degli errori che comunque si commettono sempre, a volte anche per calo di intensità, perché poi quando una partita risulta più facile di quello che uno si aspetta, magari la tensione cala e gli errori sono dietro l'angolo. Lì eravamo rimaneggiati, però come ho già detto è andata molto bene. Contro Bologna, anche lì con qualche rattoppo in formazione, abbiamo fatto una bella partita, è stata una partita molto più dura, dura quasi a livelli di quella di Roma in trasferta, però siamo stati molto bravi, li abbiamo tenuti bene, loro sono stati molto fallosi, quindi quando una squadra deve essere fallosa vuol dire che gli dai filo da torcere. Il risultato è quasi bugiardo, perché loro comunque si sono difesi bene, abbiamo trovato in una parte della gara difficoltà uscire in attacco, poi fortunatamente abbiamo degli elementi che sanno spaccare la partita e aiutano tutti, sia nel morale che nella concentrazione, quindi ci ho visti molto bene. Adesso abbiamo per la prossima partita saltato inevitabilmente, o comunque non saltato ho fatto qualche allenamento sotto tono perché le condizioni meteorologiche ci sono state avverse e di questo voglio ricordare la nostra vicinanza a chi ha avuto problemi nell'ultima settimana, nell'ultima due settimane, però adesso ci vogliamo allenare bene e forte queste due ultime serate per prepararci al meglio per domenica perché noi vogliamo solo vincere, non vediamo un altro risultato possibile. Allora, volevo un attimo fare un punto un po' più tecnico, come sta l'attacco? Nel senso, il nostro gioco aereo, dei tuoi lanci, i nostri running back, come vedi la squadra? La vedo molto bene, finalmente abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi, quindi come auspicavamo ci troveremo non al 100% domenica ma diciamo al 90% e con dei belli innesti tra l'altro per la partita di domenica e per il proseguio, mi auguro, del campionato nel migliore dei modi. Il gioco aereo sta andando bene, devo dire che sono molto contento sia dei miei compagni sia di quello che sto facendo personalmente in allenamento, sono molto contento dei coach che mi danno tantissima fiducia e stimolo, quindi quest'anno devo dire ho delle buone sensazioni. Quindi domenica 28 alle ore 15.30 invitiamo tutti. Certo, invitiamo tutti, non mancate, sosteneteci. Siamo qui con il cornerback dei Ranocchi Angels, il cornerback giocatore della difesa e con lui, Jay Lee, vogliamo chiedere questa stagione da protagonista, dove l'ha visto in tante partite anche intercettare, come vede la prestazione di Ranocchi Angels in preparazione di una partita fondamentale di domenica 28 contro la Leggio 13 Roma. Sicuramente questa sarà una delle partite più importanti del campionato, prima della fase play-off perché andiamo a giocarci il primo posto contro Roma ed è anche l'unica squadra contro la quale abbiamo perso in trasferta perché purtroppo abbiamo perso di un touchdown. È stata sicuramente una delle partite più belle perché fino all'ultimo non si sapeva chi avrebbe vinto. E quindi diciamo che dopo Bologna, che siamo riusciti a vincere quella partita, che anche quella era molto molto importante, abbiamo iniziato a concentrarci tantissimo per questa partita perché la vittoria in casa con più di un touchdown cambierà di molto le nostre sorti perché se dovessimo vincere con più di un touchdown andremo a giocare direttamente le semifinali in casa. Il tuo ruolo, Jay? Il tuo ruolo è un ruolo difficile in cui devi cercare di togliere via il pallone a quei ricevitori che vogliono fare touchdown? Sì, diciamo che è parecchio complicato, soprattutto perché nel mio ruolo basta una svista e come purtroppo mi è già capitato può davvero cambiare le sorti di una partita. Comunque nel momento in cui bisogna difendere un ricevitore, se ci troviamo di fronte a un quarterback con un buon braccio che riesce a lanciare, i ricevitori diventano delle pedine veramente pericolose in campo durante la partita. E diciamo che il mio ruolo appunto è coprire, difendere e evitare assolutamente che i lanci sia corti ma soprattutto quelli lunghi vengano ricevuti perché poi da lì ci si becca un touchdown. E permettimi di dire che dopo quattro stagioni, questa per me, credo per te, è una stagione molto importante dove ti vedo da protagonista. Sì, sicuramente quest'anno che mi è stato confermato ruolo in difesa come cornerback titolare mi ha sicuramente spinto tanto a migliorarmi, allenarmi un sacco e quest'anno ho anche la fortuna che Gerry è tornato a giocare con noi quindi posso assorbire un sacco di insegnamenti da lui che ha giocato in nazionale l'anno scorso giocava in prima divisione e diciamo che sono molto contento perché quest'anno davvero sono molto stimolato ad allenarmi, a giocare e ad essere un giocatore importante voglio essere un giocatore importante per questa difesa. Vi aspettiamo domenica. Siamo qui con Michele Abbondanza, Michele Abbondanza giocatore dei Ranocchi Angels e con Michele gli facciamo una domanda diretta lui è di Cesena, insieme a altri suoi compagni, altri giocatori dei Ranocchi Angels settimana scorsa hanno perso tutti gli allenamenti però hanno affrontato una situazione devastante, drastica che ci vorrei aver fatto raccontare perché giocare a football americano sicuramente lui che ha una certa età, esperienza ha vissuto anche in campi melmosi qui invece questa settimana avete dovuto rafforzare il vostro essere romagnoli è stata una settimana difficile, soprattutto siamo dovuti rimanere a casa perché Cesena aveva bisogno purtroppo come sapete più o meno tutti c'è stata l'alluvione il problema è che non era solo acqua, era un sacco di melma per cui tantissime famiglie disastrate hanno avuto i mobili fuori di casa cioè tutta la loro casa era proprio portata fuori da buttare tutti i ricordi, scene veramente stra palacrime anche dei signori vecchi che magari avevano i ricordi dei figli così così e in un momento gli è andato via tutto l'unica cosa bella è stato il calore della gente gli aiuti che sono arrivati anche i compagni di squadra sono venuti su a darci una mano il sabato e la domenica ovviamente sono venuti con grande impegno mi aveva chiesto dove possiamo andare aiutare ho detto guarda prendiamo sulla pala e andiamo perché ovunque andavi c'era bisogno quindi l'ospito di squadra, la voglia di aiutarci perché chiaramente con Eranoke Angels ci sono 4 ragazzi di Cesena 2 di Forlì quindi abbiamo visto che la squadra è stata veramente importante e ha dato questo sostegno quindi domenica, domenica, cosa diciamo di domenica? domenica è una partita importantissima per noi è veramente lo spartiacque del campionato purtroppo non siamo riusciti a prepararci come volevamo però siamo pronti, abbiamo lavorato sugli schemi abbiamo lavorato di testa, di braccia abbiamo lavorato nel fango però vediamo di fare una bella partita dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo studiato dagli schemi se tutti facciamo il nostro lavoro verrà fuori una bella partita quindi che dire ragazzi, tifosi, spettatori che siete qua oltre a vedere il gioco del Fulminicano venite a vedere questi eroi grazie la difesa vince le partite l'attacco vende i biglietti domenica giocheremo contro la Leggio 13 il biglietto è gratis questi due ragazzi Maltoni, Troisi i due running back dei Ranocchi Angels una vita spesa per il football americano una partita per entrare nei playoff parliamo con il più veterano Troisi Lollo, come vedi la partita? sarà una partita impegnativa molto fisica sono stati una squadra una bella squadra una squadra nonostante tutto corretta nonostante la fisicità però assolutamente alla nostra portata rientrano giocatori importanti che non sono stati in tutte queste ultime partite oltre a Roma quindi la vedo positivamente sicuramente Tommy l'importanza di segnare di far girare la palla e di correre voi siete due running back quindi la fisicità l'agilità l'agilità e la forza la forza la tenaccia e tutto tutto quello che ci vuole e quindi domenica? domenica giochiamo ce la giochiamo e speriamo di vincere ce la mettiamo tutta noi quello sicuro perfetto quindi voi fate un ruolo che vi vede correre in mezzo alla linea un ruolo che dovete uscire a prendere i palloni e un ruolo che dovete segnare per far vincere i Rano Hockey Angels giochiamo a football quindi hai raccontato il football in tre frasi invece domenica è molto importante essere concentrati per vincere assolutamente fondamentale per poter poi comunque giocare nel modo più comodo possibile le partite a seguire o comunque sperare di poterle giocare nel modo più comodo possibile Filò Filippo per Maria siamo arrivati eh domenica giocheremo l'ultima partita di regular season e dico l'ultima perché nel football americano l'età ti dà uno stop sei giovane però raccontaci come è stata questa stagione di regular season beh la stagione è andata molto bene finora qualche acciacco dovuto chiaramente all'età non più giovane però la squadra sta giocando molto bene abbiamo perso solo una partita a Roma con tante scusanti comunque un solo una persa tante vinte con tanti punti segnati quindi fino adesso è una stagione positiva domenica ci sarà appunto l'ultima partita di regular season mia visto che l'età mi impedisce di giocare anche il prossimo anno e vediamo cosa succede 48 anni la federazione dice che a 48 anni il giocatore deve smettere di giocare a football americano però se vado a ricordare le stagioni passate a tante trasferte qui c'è il rischio di andare di nuovo a Palermo cioè ti manda proprio quella adrenalina fantastica di queste stagioni che vogliamo arrivare fino in fondo e vincere sì certo visto che come è il ranking attuale abbiamo se dovessimo comunque vincere anche i playoff abbiamo una seria possibilità di andare a Palermo e questo non fa che riportarmi ai tempi dei miei inizi dove siamo andati a Palermo due o tre volte a giocare quindi grandi emozioni e grande voglia di andarci ancora a giocare a Palermo soprattutto il mio ultimo anno quindi ai tuoi fans, ai tuoi follower che cosa possiamo dire domenica? venite a vederci numerosi perché voglio di vedere tanto pubblico sugli spalti sarà una giornata sembra positiva per quanto riguarda il meteo quindi venite a vederci e sicuramente ci sarà da divertirsi domenica 28 è il grande giorno i Ranocchi Angels giocheranno l'ultima partita di regular season contro la Leggio Roma siamo qui con il lead coach Alessandro Angeloni a lui la parola per spiegare la partita di domenica e i playoff finalmente giochiamo in casa dopo più di un mese in giro a giocare in trasferta poi c'è stato un po' di riposo e quindi adesso dobbiamo caricarci perché il riposo nel football americano sì, permette di recuperare gli infortuni ma abbassa un po' l'attenzione abbassa l'intensità adesso ci dobbiamo caricare questa settimana per andare a giocare contro Roma e giocarci il primo posto del girone è molto importante perché i playoff vedono giocare le prime del girone sud e del girone nord direttamente i quarti di finale e quindi potremo saltare vincendo contro Roma di più di sette punti la prima partita le wild card è anche importante vincere per non andare subito a giocare molto lontano come Palermo o Catania ma giocare in casa e eventualmente poi continuando a vincere chiaramente noi intanto puntiamo a vincere questa contro Roma però si potrebbe giocare arrivare più avanti quindi abbiamo grandi aspettative per questa partita li abbiamo già affrontati e sappiamo che possiamo batterli ci hanno battuto a Roma ma abbiamo il dente avvelenato appunto per questo per rifarci della sconfitta ci siamo rinforzati un po' abbiamo recuperato gli infortunati quindi siamo sicuri che avremo le possibilità di farcela tutto questo perché dall'inizio della stagione la federazione ha diviso i gironi nel nord e nel sud noi siamo nel girone sud quindi ecco quello che diceva il coach Angeloni avremo la possibilità di giocarci i playoff in casa ma se non vinciamo dovremo andare a fare trasferte anche molto lontane Palermo Catania chissà aspettiamo la partita dunque il riassunto di tutte le partite che i Ranocchi Angels hanno giocato in questo mese e mezzo l'avete ascoltato domenica i ragazzi non vedono l'ora di giocare in casa e stanno chiamando a più non posso tutto il pubblico pesarese non ragazzi che vengono anche da Cesena da Forlì hanno chiesto l'aiuto di una squadra la stessa squadra che insieme lotterà per una cosa importante un ingresso ai playoff vi aspettiamo domenica 28 maggio alle ore 15.30 al campo scuola di Vira e Spighi ingresso gratuito venite numerosi ad applaudire i Ranocchi Angels di Vira e Spighi Grazie a tutti.